Negli anni 50 il cinema deve fare i conti con l'arrivo del più grande concorrente della sua storia. Proprio in quel decennio infatti la televisione comincia ad imporsi come mezzo di massa in quasi tutti i paesi occidentali. Dalla necessità di competere proponendosi come spettacolo di livello più alto rispetto a quello televisivo, prende il via un grande rinnovamento del cinema mondiale sia dal punto di vista tecnico sia per i nuovi stili che emergono sia soprattutto per le tematiche che vengono affrontate. In questo contesto in Francia prende il via alla fine degli anni 50 quella che viene chiamata la nouvelle vague, una vera e propria ondata di nuovi registi fra i quali spicca un gruppo che possiamo definire un movimento non organizzato di giovani autori che per la maggior parte provengono dalla critica cinematografica e prima come critici poi come registi si ribellano contro il cinema francese classico e contro il cinema commerciale in genere, contro le sue logiche industriali, contro i suoi personaggi stereotipati. I punti di riferimento di questi giovani autori Godard, Rivette, Chabrol, Romer, Truffaut, sono il cinema americano di genere, il neorealismo italiano e alcuni registi in particolare come Renoir e Bresson per il cinema francese o per esempio Orson Welles e Hitchcock per quello americano. I 400 colpi, primo film di Truffaut girato quando è ancora giovanissimo a 26 anni, viene presentato al Festival di Cannes del 1959 insieme ai Cugini di Chabrol e sono due film che diventano subito simboli della nouvelle vague. L'anno dopo uscirà il primo film di Godard, Fino all'ultimo respiro, che è il manifesto della nouvelle vague dal punto di vista delle innovazioni stilistiche e del montaggio. I 400 colpi è una storia sul passaggio fra l'infanzia e l'età adulta. È uno dei film più sensibili sulla preadolescenza. Truffaut aveva già trattato questo tema in un suo cortometraggio di due anni prima, l'età difficile, che tra l'altro vi consiglio di vedere perché è molto molto bello, lo trovate anche su YouTube. Anche I 400 colpi doveva essere un cortometraggio, la storia di un ragazzo che scappa di casa nella Parigi occupata dai nazisti. Poi l'idea si evolve e diventa un lungometraggio di ambientazione contemporanea. Truffaut lo definì una cronaca dei 13 anni. Il protagonista, Antoine Duanel, vive un rapporto difficile con i genitori, una madre che lo rifiuta e un patrigno debole. Tutti e due lo percepiscono come un intruso. Capiamo da subito che è un estraneo in famiglia. Antoine dorme dietro la porta di casa, dentro un sacco a pelo. Per i genitori è letteralmente sempre in mezzo ai piedi. Non ci sono solo l'egoismo e l'incomprensione della madre e del patrigno, ma tutti gli adulti intorno ad Antoine sono incapaci di comprenderlo e di accettarlo, a partire dagli insegnanti. Questa assenza, questa indifferenza del mondo adulto fa apparire tutta la società intorno ad Antoine come opprimente. Soprattutto il film ci mostra la solitudine del ragazzo. Truffaut parte dalla quotidianità colta come in un documentario e si nota l'influenza del neorealismo italiano, con particolare riferimento a Germania anno zero di Rossellini, forse il miglior esempio di film sull'infanzia negata. Nelle scene della scuola invece il rimando è a Jean Vigo, a zero incondotta, con la ribellione verso l'autorità e le norme e il rifiuto del paternalismo. Ma non va dimenticata l'influenza del cinema americano di genere, di cui erano grandi appassionati Truffaut e gli altri critici dei cahiers du cinéma, che poi diventeranno i registi principali della Nouvelle Vague. Antoine Duanel è un personaggio creato a partire da elementi della biografia di Truffaut che, attraverso l'interpretazione di Jean-Pierre Léau, si trasforma in qualcosa di più e di altro. Quello che interessa a Truffaut è creare un personaggio vivo, autentico, non stereotipato. Le caratteristiche principali che definiscono il personaggio di Antoine sono voglia di libertà, innocenza e sogno adolescenziale, nel suo caso simboleggiato dal desiderio di vedere il mare. Nella storia non ci sono colpi di scena che portano al dramma. Il protagonista scivola progressivamente, direi quasi fatalmente, verso la devianza. Il film si tiene lontano dagli stereotipi sui bambini e sugli adolescenti. L'infanzia non è mai mostrata nostalgicamente come un'età felice. Antoine, anzi, è visto come prigioniero in ogni luogo istituito dalla società degli adulti. La famiglia, la scuola, il commissariato, il riformatorio. Il suo desiderio di libertà si esprime attraverso l'amore per la letteratura e per il cinema. La sua adorazione per Balzac, che era lo scrittore preferito di Truffaut, lo porta a copiare un brano della ricerca dell'assoluto, ma questo viene giudicato solo come una bravata, non come una dimostrazione di amore per la letteratura. Uno dei pochi luoghi in cui lo vediamo veramente felice è la sala cinematografica, dove va a rifugiarsi come in una seconda casa. E l'unica volta che lo vediamo con i genitori veramente contento e sereno è quando vanno tutti insieme al cinema. In Truffaut i richiami al cinema e alla cinefilia si ripetono costantemente. Qui non solo nelle scene al cinema o quando i ragazzi rubano la foto tratta da Monica il desiderio di Bergman, un film che poi verrà citato anche nel finale, ma Truffaut stesso, ad esempio, si diverte a comparire in una scena come faceva in quasi tutti i film uno dei suoi registi preferiti, Alfred Hitchcock. La letteratura e il cinema quindi come evasione e rifugio. L'altro luogo da cui Antoine è attratto sono le strade di Parigi dove può vagabondare con l'amico René. È una Parigi grigia, autunnale che rispecchia la freddezza del mondo adulto nei loro confronti. Veniamo ora in particolare alle tre scene che costituiscono l'ultima parte del film. La scena del colloquio con la psicologa è praticamente un riassunto dell'infanzia di François Truffaut e lo percepiamo anche dallo stile documentaristico, da intervista. Per tutta la scena non vediamo mai la psicologa ma vediamo solo Antoine. Come Duanel anche Truffaut era nato da una ragazza madre che lo aveva ripreso con sé solo dopo otto anni, sposata ad un uomo che aveva dato il suo cognome al bambino e che lo aveva portato dalla polizia dopo i primi furtarelli. Non è un caso se nella scena della lezione di inglese sentiamo chiedere ripetutamente dov'è il padre. La mancanza di un vero padre è uno dei punti chiave per capire la psicologia di Antoine, personaggio dalla psicologia complessa fuori dagli stereotipi come abbiamo detto che non è né positivo né negativo, è appunto sfaccettato come tutti nella vita reale. Da ragazzino della sua età dimostra da un lato maturità, dall'altro il suo essere ingenuo e infantile. Truffaut dopo gli anni del riformatorio aveva trovato un padre sostitutivo nel critico André Bazin che per primo intuì le sue potenzialità e ancora ragazzo lo fece entrare nell'ambiente della critica cinematografica quando l'unico destino per lui sembrava essere la delinquenza e il carcere. La seconda scena è quella del colloquio con la madre. Qui c'è il tocco geniale della soggettiva di Antoine che guarda il cappello nuovo. Truffaut condensa in quel cappellino tutto l'egoismo della madre, sempre concentrata su se stessa e sul suo aspetto. E poi l'indimenticabile finale del film, la carrellata lunghissima, quella fuga che si trasforma in una corsa verso il mare che Antoine sognava sempre di vedere. Il mare è l'età adulta, un futuro aperto a tutte le possibilità ma anche pericoloso e ostile. È un'immagine di innocenza perduta. L'innocenza ha lasciato il posto alla consapevolezza che l'infanzia è finita e non si può più tornare indietro. La libertà raggiunta è per Antoine una delusione e quell'ultimo sguardo in camera con quel famoso fermo immagine diventa una domanda e un atto d'accusa rivolti a noi spettatori. Qui il film ci mostra tutta la sua modernità in quel finale aperto, sospeso, in cui non è più importante far vedere come va a finire la storia ma è più importante porre delle domande e far nascere delle riflessioni. Come la maggior parte delle opere di Truffaut e della Nouvelle Vague, il film pone più domande delle risposte che offre. Due parole sulla fotografia di Henri Descae, importantissimo per aver lavorato in una serie di film che anticipano la Nouvelle Vague, dal silenzio del mare ai ragazzi terribili fino alle boss herge, esperto non solo di fotografia ma anche di montaggio e di sonoro. Descae permette ai registi con cui lavora di semplificare e rendere più agile l'uso della macchina da presa, sviluppando la possibilità di seguire personaggi secondo ritmi molto più moderni. Per finire vorrei soffermarmi un attimo sul talento di Jean-Pierre Léau, che viene scelto al primo provino come protagonista ideale per il film, capace di conquistare tutti con la sua irresistibile commistione di innocenza e spavalderia. Truffaut lo adotta come una specie di alter ego e ne farà un partner praticamente fisso facendogli interpretare molti altri film e in particolare, sempre nel ruolo di Antoine Duanel, altri tre lungometraggi più un episodio nel film L'amore a vent'anni. Per un ventennio ci farà vedere l'evoluzione del personaggio attraverso le varie fasi della vita nel cosiddetto ciclo di Antoine Duanel. Parlando della sua giovinezza, Truffaut aveva detto il cinema mi ha salvato la vita e dedica i 400 colpi ad André Bazin, morto subito prima dell'inizio delle riprese nel 1958. Al festival di Cannes del 59, dopo essere stato dichiarato persona non grata per le sue feroci critiche ai film francesi in concorso l'anno prima, Truffaut con i 400 colpi vince a sorpresa il premio come miglior regista, un fatto che dà l'idea di quanto straordinario sia stato questo film. Grazie, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo video sui classici del cinema. Un saluto da Andrea.